Non accenna a fermarsi la corsa del prezzo dei carburanti che, dopo aver superato soltanto pochi giorni fa la soglia di 2 euro al litro in modalità servito, nelle ultime ore è stato addirittura sfondato il tetto di 2,5 euro al litro per la benzina, sempre servita in alcuni distributori sparsi sul territorio nazionale della rete stradale ordinaria. La nuova situazione è stata resa nota da Asso Utenti dopo aver analizzato i dati messi a disposizione dal Ministero. In Abruzzo e in alcuni distributori il servito è al di sopra di 2 euro. Questo spiega Massimiliano Divisio, confartigianato trasporti pescara non solo per la crisi nel canale di Suez e la guerra, soprattutto taglia corto per la speculazione. Il prezzo di benzina e gasolio è destinato a salire come confartigianato, non escludiamo, manifestazioni di protesta. Ma è ovvio che va valutata la situazione internazionale con la crisi del Golfo di Suez e la guerra in Israele, ma anche il taglio dell'OPEC che sta facendo in maniera sistematica sulla produzione. Ma il prezzo del gasolio, del petrolio, il Brent oggi come riferimento, ha intorno agli 83 dollari, per cui non è tanto alto. Per cui di fondo c'è una speculazione che va affrontata e capita. Il servito oggi siamo, ecco prima controllavo, siamo a 2,29 euro circa sul servito. Prezzi veramente altissimi, non giustificati però, ripeto, dal costo reale del Brent, del petrolio. Sì, assolutamente. Il trend è in ascesa e queste sono le previsioni per il momento. Siamo di fronte a una stagione di rincari come quella del 2022 e dovremmo capire le motivazioni. Chi a tutt'oggi non sarebbero ben chiare? No, a nostro avviso c'è una speculazione di fondo perché, ripeto, il prezzo del barile non è aumentato a livelli altissimi. Per cui, infatti, leggevo qualche giorno fa che il prezzo del carburante in giro per l'Europa è rimasto benché invariato e salito di pochissima differenza invece del costo che abbiamo in Italia. Potreste attuare delle manifestazioni di protesta? Sì, questo non lo escludiamo. Infatti abbiamo già chiesto un tavolo di confronto con il governo come confartigianato per capire le probabili soluzioni. È ovvio che non possiamo escludere nulla perché se il trend è in ascesa la soluzione andrà trovata.